Musica Allora ciao a tutti, buonasera Oggi siamo in compagnia via A cab, a Gabriele di Benedetto A cab, a Gabriele di Benedetto A cab, a, 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 a Grazie per essere venuti numerosi, numerosi A cab, numerosi A cab, numerosi A cab, numerosi A cab, numerosi Metafisica 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 Allora, allora Metafisici Chi scelma d'essere? Allora Metafisici Chi scelma d'essere? Allora Come ne definisci? Ma soglia della bocchetta Metafisica Allora, allora Con te Per introduzione Radiofonica Da dentro è molto simile a soglia della bocchetta Per introduzione Radiofonica Da dentro è molto simile a soglia della bocchetta Come ne definisci? Metafisica 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 Allora, allora Metafisici Chi scelma d'essere? Allora Metafisici Chi scelma d'essere? Allora Metafisici Ma soglia della bocchetta Metafisica Allora, allora Penso di aver capito che ogni volta che capisco qualcosa di un altro linguaggio Poi questa cosa la uso per riportarla come un linguaggio madre Diciamo così Che fumetto? Che fumetto? Allora Che fumetto? Che fumetto? Allora Che fumetto? Che fumetto? E' un'altra cosa è 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 un'altra cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti.